Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. In questo giorno santo rinnovo, nell'unione spirituale con i Vescovi, con i Presbiteri e con i Diaconi, la consacrazione della mia chiamata, della mia vita e della vita di ogni singolo fedele della Madre Chiesa, al Cuore Immacolato di Maria, Vergine del Santo Rosario e Regina delle Vittorie. In questo giorno di grazia chiedo insieme a tutti voi al Padre per il tramite di Maria, Vergine del Santo Rosario, che ci conceda ogni grazia, spirituale e corporale, affinché nella preghiera viva, possiamo essere purificati e santificati. Affidiamo a Maria le intenzioni di ogni fedele e di ogni uomo e donna di buona volontà. Affidiamo al Suo Cuore la conversione dei poveri peccatori e la guarigione dei malati e preghiamo per la salvezza di tanti che in questi tempi duri e difficili stanno vivendo la grande prova di questa umanità. In questa preghiera consacro oggi, in comunione con tutti i Vescovi, il mondo intero animato dalla buona volontà al Cuore Immacolato di Maria, affinché il Padre, per intercessione della Regina delle Vittorie, conceda ogni vittoria ai Suoi piccoli, donando loro grazia e misericordia, cancellando loro ogni colpa. E affinché, nella Sua onnipotenza, il Padre vinca il maligno e le schiere diaboliche, abbatta il peccato per rendere giustizia ai giusti e ai Suoi figli fedeli. E così sia. Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, Regina delle Vittorie O Maria, Madre di Gesù e Madre mia, mi consacro a Te, perché tutti coloro che il Padre mi ha affidato, mi affida e mi affiderà, siano consacrati nella verità, affinché partecipino in forma piena al piano di amore e di redenzione per la gloria e in onore al Padre. Maria, Tu che generasti una volta per tutte fisicamente Gesù, per opera dello Spirito Santo, così genera spiritualmente il Tuo Figlio unigenito in noi, per opera dello Spirito Santo, ogni volta che non dimora più nel nostro cuore. Maria, Tu che uniformandoti al Padre, amasti tanto me da dare il Tuo unico Figlio per la mia redenzione, fa che io viva Te, specialmente nel rapporto amoroso con il Padre Creatore, con il Figlio Redentore e con lo Spirito Santo, amore sostanziale del Padre e del Figlio, e conseguentemente nel rapporto amoroso con i miei fratelli, creati dal Padre, redenti dal Figlio, santificati dallo Spirito Santo. Maria, io viva sempre Te, nell'amore a Dio e al prossimo. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A Te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a Te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Uniamoci ora a Maria per ricevere la Sua benedizione e di venire come Gesù ci vuole, sul Suo esempio di ancella, sposa e madre, sempre fedele alla volontà del Padre. Maria, Vergine del Santo Rosario e Regina delle Vittorie, benedica noi tutti, oggi e sempre, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.